Castello Orsini, struttura dalle atmosfere fiabesche, accoglierà il vostro ricevimento offrendovi la possibilità di godere di un ambiente magico ed esclusivo, che renderà indimenticabile ogni attimo del vostro matrimonio. Ogni angolo esterno di questo antico maniero racchiude un'ambientazione da favola e si adatta perfettamente a incorniciare le varie fasi del vostro atteso evento. All'interno dei suoi giardini panoramici o a bordo della sua meravigliosa piscina potrete allestire un esclusivo aperitivo di benvenuto o un banchetto dalle connotazioni eleganti e raffinate. Le sale interne del castello vantano una capienza che varia dai 100 ai 400 ospiti. Il piano nobile ospita delle splendide sale che conservano gli antichi mobili originali, arazzi, affreschi e quadri preziosi, mentre il salone delle feste è uno spazio ampio, di grande raffinatezza che conserva ancora gli splendidi decori originali d'epoca. Castello Orsini rappresenta l'ideale anche per tutti coloro che hanno il desiderio di celebrare in loco la loro cerimonia esclusiva, usufruendo così di uno scenario circostante da sogno. Lo staff del castello, professionale, disponibile e altamente qualificato, sarà lieto di offrirvi preziosi consigli e seguirvi nell'organizzazione di tutti i dettagli del ricevimento. Dagli allestimenti agli intrattenimenti, passando per l'accoglienza degli invitati e arrivando al servizio ai tavoli, il vostro evento sarà un successo. La cucina, curata dallo chef della casa, molto attento alla stagionalità e alla qualità dei prodotti, delizierà i palati dei vostri invitati. Ingredienti freschi, sani e genuini andranno a costituire quello che sarà un banchetto dai sapori delicati e prelibati che troveranno i consensi di tutti i vostri ospiti.